Ci siamo con alcuni di voi che li conosco, anche tanti, prima ancora che nasce il Movimento. Sono praticamente tre anni e siamo qui, tre anni e mezzo, quindi è fantastico questa crescita. Non so quanti di voi erano a Firenze, penso che qualcuno di voi sappia un pochino della carta di Firenze, ovviamente, di quelli che nel Movimento sono vecchietti. Però temo che non tutti hanno partecipato, hanno avuto la fortuna di partecipare quando eravamo quattro gatti. Quando non si riusciva ad accogliere tre o quattro persone, quando davo gli appuntamenti in Parlamento pulito, annunciate 300 persone eravamo in nove, quando praticamente sia in rete, dove io ho fatto più attività che territoriari, era difficile, avevamo un problema attivo. Io sentivo da tutti i gruppi a livello nazionale che si parlava molto, ma quando poi si dovevano fare delle attività, eravamo quattro gatti. Quindi per chi ha vissuto, come me, i famosi zoccoli, i bisonti che si mobilitavano, li sentivamo, poi ci guardavamo, ci pendevano per i corrutti, eccetera, non c'era nessuno. Quindi da un lato è partita questa bellissima onda. Da un lato io ho visto i gruppi esplodere sotto la campagna elettorale, quindi questo ha fatto alzare anche un pochino le antenne a chi partecipa al Movimento. dove 1.1 vuol dire che chi c'era prima conta come chi è arrivato ieri mattina, ma senza però le cose che vede, le pretesi di fare il candidato, perché ho visto molta gente presentarsi e dirmi ciao, voglio candidarmi. PD e PDL, la sezione lì, vai, eccetera, eccetera. Quindi la ragione che un vecchio e un bambino stai qua è soltanto un attimo, volevo un attimo essere dentro l'onda, perché c'è veramente delle cose bellissime, cioè il fatto di ritrovarci naturalmente in centinaia, ormai è un fatto normale, siccome tu lanci un'iniziativa del Movimento adesso, basta fare un'analisi della progressione dei gruppi, ogni tanto stavano volendo, ragazzi, c'era un gente, c'era nessuno, sia in rete che fuori. Imposizamente ci siamo ritrovati con una volta che è rimasto. Ora, se uno si volesse dare un piccolo ruolo, nel senso anche presuntuoso, ogni unico vuole essere un piccolo garante e memoria storica di quello che è stato, di quello che è il Movimento dei suoi principi essenziali. Poi ha anche una certa capacità, non mia, ma della rete, di riconoscere i propri simili. Mi dispiace, non ho molte doti, al di là di essere perennemente cazzato, ma se uno che viene dalla politica mi parla, io dopo tre parole so, se viene dal Movimento viene da un partito. Non c'è niente di male, perché se siamo arrivati a essere probabilmente la prima forza politica in Italia, qualcuno da fuori dovrà venire in Italia, perché non possiamo pensare di essere dei grosanti. Ci sono tantissime persone che stanno attorgiando la nostra filosofia e che hanno un'esperienza politica. Questo presuppone, secondo delle regole che ci siamo date, e possono fare tutto, c'è vita civica, darci una mano, eccetera, eccetera, però possono anche aspettare a candidarsi un attimo. Passiamo alle domande. Ok, vai. Allora, come pensi di garantire attraverso la Regione la formazione professionale per creare nuovi posti di lavoro? Due cosette. Diciamo che a livello di impostazione le buone notizie noi non ne abbiamo. Avete una serie di domande, ci stiamo creando al nostro insaluto un piccolo, diciamo, un mini-liderismo, no? Ognuno pensa, propone, fa, eccetera. Per me la Regione è veramente inutile. Abbiamo fatto un sondaggio sul blog, per il quale, così come è fatta la Regione è composta, genera solo un centro di posto. Mi spreco il denaro pubblico, di denaro dei cittadini, eccetera. Il mio augurio per chi entrerà al mio posto, gli altri che saranno dentro, gradirei che va gente dentro, o l'accetta? Gradirei che va gente dentro per demolire una certa situazione in difficoltà e crea poi i presupposti per finanziare lo sviluppo, perché se non abbattiamo spese consigliarie, autoglu, privilegi, consulenze, a Panadamma della Regione, poi possiamo qui fare le solite asserzioni dei politici di principio, ma poi i soldi non è che ce li possiamo inventare. Allo stesso tempo, un'altra cosa, quello che vuoi dire, non pensi il sistema che il Movimento 5 Stelle, che rendita una situazione di miliardi di euro di debiti accumulata dalla classe politica, poi faccia il piccolo monti, che mette in liquidazione il prestanome della liquidazione dei servizi dei cittadini. Quindi il Movimento ha bisogno di interessarsi, di fare determinate azioni per ristrutturare il sistema. Deve avere per loro che scrivo giusto. Cioè non pensate che il Movimento 5 Stelle faccia quello che i politici non hanno fatto poterlo. Allora, alla luce degli ultimi eventi di piazza, sei favorevole a loro di matricola visibile dei cittadini anti dimostrazione? Sì, la proposta nasce tantissimi anni fa da un blogger sul blog di Grillo, ripresa dalla sua provenienza in... come lui vive a Monaco. Tra l'altro non era nemmeno un fan di quel Movimento, ci scontravamo di 5 minuti. E sono praticamente 5 anni, ragazzi, che questa proposta in merite sul territorio e tutte le identificazioni sui casi gira e quindi è ovvio che ci sono degli interessi per non farlo. Ringraziamo. Ciao, signore. e andiamo all'ultimo.